Aveva visto tutti i risparmi di una vita, oltre 100.000 euro, andare letteralmente in fumo dopo averli investiti nell'acquisto di azioni di Veneto Banca, un azzardo che poteva costare caro ad un cittadino bicegliese che aveva programmato l'intera operazione attraverso l'intermediazione finanziaria di una filiale di Banca Apulia. Oggi può tirare un sospiro di sollievo, ma solo grazie al ricorso presentato dagli avvocati Antonio Calvani e Patrizia Colonna dell'Unione Nazionale Consumatori. L'arbitro per le controversie finanziarie, un nuovo organismo attivato dalla Consob, ha riconosciuto le ragioni del reclamo, condannando Banca Apulia a corrispondere per intiro i 103.000 euro persi dal risparmiatore. Una vittoria importante, dicono dall'Unione Nazionale Consumatori, che ridà speranza alle centinaia di piccoli investitori che si ritrovano a vivere situazioni drammatiche come questa. L'arbitro per le controversie finanziarie ha stabilito che l'intermediario finanziario, in uno specifico Banca Apulia, non aveva dato una corretta informativa al risparmiatore, in particolar modo non aveva avvisato il risparmiatore sul fatto che quelle azioni erano dei titoli illiquidi, cioè dei titoli non quotati in borsa e pertanto acquistati in un certo momento, ma non si sarebbe mai saputo quando e come e a che prezzo sarebbero stati venduti questi titoli, proprio perché non c'era mercato. Il grosso problema è stato proprio questo, che è un problema diffuso, che riguarda un po' tutte le banche popolari. Casi di risparmiatori traditi dalle proprie scarse conoscenze in materia di finanza sono all'ordine del giorno, eppure esistono e sono validi gli strumenti per tutelare i propri investimenti. I risparmiatori hanno uno strumento molto importante al momento della sottoscrizione dei contratti, che si chiama formulario MIFID, dove loro devono sostanzialmente indicare le proprie capacità e le proprie conoscenze in materia di finanza. Io ho letto purtroppo molto spesso questionari firmati da persone con titoli di studio molto bassi, anche la quinta elementare, dichiarare che leggevano il sole 24 ore ogni giorno e essere abbonati a rivise finanziarie che consultavano con una frequenza anomala. Il consiglio è di compilare questo tipo di modulo in maniera sincera, farsene rilasciare una copia, e soprattutto quello di chiarire che tipo di investimento si vuole fare, cioè se si vuole effettivamente fare un'attività speculativa o si vuole semplicemente proteggere il proprio patrimonio.